Ciao amici! Siete pronti a fare le risette di pacqua con me? Oggi prepariamo l'uovo di pacqua! Questo è il kit che fette. Adesso mamma scrive qua al negozio. Per prima cosa temperiamo il cioccolato. Mettiamo il cioccolato al latte di una ciotola. Lo zazziamo a sciogliere dentro al microonde poco alla volta. Deve arrivare a 45 gradi. Dopo lo misuriamo con questo termometro. Quando è arrivato a temperatura togliamo il termometro e zazziamo così con la patola. Si deve raffreddare. Deve arrivare a 28 gradi. Quando ci hai raffreddato lo riscaldiamo un altro poco poco fino a 31 gradi. Ecco fatto! Adesso riempiamo lo tampo. Adesso mettiamo il tetto in giù di una ciotola. E pensiamo che ci raffredda. Ecco il mio l'uovo di cioccolato. L'ha raffreddato bene bene. Adesso guardate questa pilla di Aurora Chef. La mettiamo tipo sorpresa. Mamma si è spaventata e lo stavo rompendo. Cioè... Abbiamo ricadato bene bene il cucchiaino e lo passiamo qua sopra. Lo tacchiamo piano piano. Ecco fatto! Lo facciamo di raffreddare bene bene qua dentro. Il mio l'uovo si è raffreddato bene bene. Ci mettiamo una bella carta intorno. Il mio l'uovo è quasi finito. Ci mettiamo un fiocchetto sopra. L'uovo si è raffreddato bene bene. va a gustare va a gustare